Che bella zona, devastata, così chiara, sembra un sogno. Molto molto carina questa parte, molto lugubre, per quanto sia molto luminosa, anche veramente di incubo ad occhi aperti, una città laggiù dovrebbe essere il monastero, anzi anche questo potrebbe già essere il monastero. Vediamo un po' cosa dice la mappa. Dice che siamo nel Necro Hall. Ok, abbiamo superato la giungla di Golmor. Dice anche il monastero di Orbon. Siamo nel Necro Hall e adesso arriveremo al Cristalline Gaul. Ok, il party è partito. Ci sono tre nemici che scendono discretamente bene. Due sono già crollati e anche il terzo è stato molto semplice. Se ne sta montando uno, più grosso, Dark Crusade. Sta preparando una mossa, mi allontano, vedo che tutti se ne vanno. Ah, perché bisogna entrare in queste. Pardon. Ok, questa non è stata completata. Si è creato un mob. Ok, come in altri fight, bisogna cercare di entrare nel giusto quantitativo di giocatori, in questo caso 4, nelle aree viola, per evitare che al termine del cast del boss si generi un add. Ok, gli attacchi ad aria non mi spaventano più di tanto, ma direi che non c'è da aspettarsi molto di più da un boss intermedio, un mini boss questo. Non penso che ci riserverà tante sorprese, anche se sta scendendo molto lentamente. Oh, c'è di nuovo la strategia dei cerchi. Mi sembra che abbiano fatto tutto bene. Perfetto, sì, ok, risolta. Abbiamo sconfitto il Dark Crusader. Stiamo proseguendo verso quello che potrebbe essere il terzo boss. Bellissima comunque questa ambientazione, fantastica. C'è un personaggio, incappucciato. The Thunder God! È Orlando! Orlando è un altro personaggio di Final Fantasy Tactics. Mamma mia quanto è diventato grosso. Mamma mia, che cos'è? Un drago. Un tizio con una coda molto grossa. Che ha una spada, la coda. Orlando è un personaggio reclutabile del Tactics. Fortissimo. È un maestro di spade. Mi pare che si chiamasse Osword Saint o Runesword. Adesso non mi ricordo qual era la sua classe. Era una classe unica, che aveva solo lui. E faceva i buchi per terra da quanto faceva male con la spada. Era veramente, veramente potente. Nel momento in cui lo si incontrava, era un disastro per i nemici. Perché era veramente, veramente performante. Penso assolutamente che sia il personaggio più forte di quel gioco. Oh mamma mia! Abbiamo ricevuto un colpo che ci ha portato a pochissimo. Adesso io sto portando tutti a palla. Infatti, come immaginavo, arrivando a palla se ne va via il Doom. Ok. Sta mettendo la spada in un punto. E infatti l'ha colpita. Ok. Sta preparando una roba strana. Ok. Un attacco in prossimità. Se la sono presa un po' di gente. Allora, lo metto in focus target. Devo capire quando fa una cosa e quando fa l'altra. Shadowblade. Questa è un'area. Vedo che i personaggi lo portano di lato. Ok. Quando il boss mette le spade piantate di... Diciamo, nel bordo. Ah, ce l'ho io. Bisogna andare vicini. Mentre se... Quando fa quella mossa non fa quell'animazione, bisogna andare lontani. Ok. Quindi questa è una cosa che ho imparato dopo il primo wipe. Cavolo. Cavolo. Eh, ci sono cascato di nuovo. In pratica mette un... Una vulnerabilità esunabile al tank. E... Bisogna esunarla. Semplicemente. Per evitare che muoia malissimo. Cosa fa? Ah, quella che bisogna stare lontani. Allora, l'ho evitata io. Ma non Marokada, che è il nostro altro healer. Quindi... È stato già ressato. Per rapidità. Ok. Qua bisogna... Questo l'hanno detto i giocatori. Prima di... Di partire con il secondo... Con la seconda try. Bisogna entrare in tre. Per evitare di morire malissimo. Ok. Resso di healer che di nuovo... Slither è già di nuovo morto. Ah, ok. È anche già stato ressato di nuovo. Quindi cerchiamo di mantenere vivo il tank. Qua c'è un'area. Questa non la so. Vabbè, io mi ci levo. Ah, segue! Porco demonio! Segue un giocatore o i giocatori. Cambio di arena. Ok, fase add. Ci sono tre add. Questo non è... Certo il primo tentativo. Quindi mi sono già fatto un'idea. Delle mosse. Siamo... Siamo tutti vivi. Cosa che raramente eravamo. C'è un tizio con un marker che si deve allontanare perché gli arriva... No, a dire il vero no, diventava al centro di un'area. Forse era meglio se rimaneva in zona. Comunque, qui c'è anche uno share. L'ho anticipato troppo, però siamo riusciti a cavarcela. Il mini-boss è a metà vita. Sta venendo giù discretamente. Questo colpo... Ah, è quello di prima, ok. Il tizio si allontana comunque. Si creano delle aree in effetti un po' fastidiose. Qua c'è un marker che creerà, ok, una linea. Questa mossa è nuova rispetto a quella che avevo visto finora. Perché non ci eravamo mai arrivati. Peccato perché i primi due boss li avevamo tirati giù abbastanza in fretta. Con questo abbiamo avuto sicuramente più problemi. Ed è inutile che ne parli al passato perché tutto può ancora succedere visto che ho visto il boss al 70%. Mi pare, più o meno. 69% del Thunder God. Quindi... È difficile dire di aver già ottenuto la vittoria. Adesso ci sarà tutta una serie di nuovi colpi, immagino. Allora, lui colpirà lì, non qua, ma anche qua. Allora, io dovrò... Andare qui dentro, prima che colpisca quella ancora di lato. Nooo, sono stati tipo uccisi tutti. Ma dannazione! Io ho qualcosa addosso. Boh, mi curo. E sono morto. Ok, fantastico. Qua c'è una zona piccola, libera... E c'è un'add. C'è un'add da sconfiggere. Boh, io ci metto sotto un'area che cura. Faccio tutte le mie cosine da Mago Bianco, il Protect. E poi mi metto a pestare anche io l'add. Che ha una skill in esecuzione. Ce l'abbiamo fatta. Noi ce l'abbiamo fatta. Ora bisogna vedere gli altri. Sì, sembrerebbe tutto ok. Il boss è al 36%. Dannazione! Il boss è al 9%. È fattibile! Nooo, ho sbagliato tutto! No, gli era fatto meno male. C'era il tank che aveva bisogno di un velocissimo Esuna. E gli era fatto l'altro, si vede, perché io non ho fatto a tempo. 4%. Il boss è al 4%. Abbiamo preso un male poia. Abbiamo preso un sacco di danno. Però non siamo morti. Il boss è al 3%. Io ho finito praticamente il mana. Farò DPS a sto punto. Il boss è al 2%. Qualcuno ancora lo sta colpendo? Ignorando la strategia e la meccanica. Rischiamo, rischiamo tantissimo. Ok, ora ci concentriamo sul boss. Ed è un wipe. E io non ci voglio credere. Siamo arrivati al 4%. Vedo che stanno partendo le limite. Ovviamente abbiamo whipato malamente, tipo al 2%. Ma a sto giro, siamo all'1%, no, non ci credo. Ok, perfetto. Il nemico è stato sconfitto, finalmente. Ci sarebbe anche il drop da tenere in considerazione perché io devo ancora droppare. Allora. Eh, non è roba che mi interessa. Quindi passo, in effetti. E spero di avere più fortuna con l'ultimo boss. Intanto parte la cutscene. Vediamo l'auracite che sta splendendo. E qualcuno che sta... Castando... Ce n'è più di una, ovviamente. Ci sono 5 auraciti. Più di 5. C'erano un sacco. Sta prendendo potere da tutte le auraciti. Quindi adesso l'angelo ultimo è potentissimo. Vediamo come l'hanno rappresentato. Assolutamente identico a quello di... Final Fantasy XII. Beh, però è ben più bello. Non è assolutamente identico. Il concetto è lo stesso, ma è ben più bello. Wow. Assolutamente. Quindi sarà... Eh... L'angelo ultimo al nostro avversario. Ci stiamo preparando... Al fight. Cercheremo di interpretare immediatamente... Al meglio delle nostre possibilità... Il pattern di attacchi. Abbiamo ancora 50 minuti a disposizione. Speriamo bene. Ok. La battaglia sta per cominciare. Siamo... Tutti pronti. Vediamo di capire... Il suo pattern di attacchi. Ah, per ora delle aree per terra. Fastidiose. Ah, cavolo. Hanno quasi ucciso il nostro healer. Vediamo se... Farà altro. Sì. Un attacco con vari tipi di area. Oh, cavolo. Oh, cavolo. E come cavolo faceva evitarli? Sì. Sì, va bene. Mi avete interessato, però... C'erano un botto di aree. Un botto di aree da spreddare. E avevamo i movimenti limitatissimi. Che cosa c'è? Non ho visto che mox ha tirato. Un blocco di ghiaccio. Facciamo un altro. Oh, cavolo. Forse rimanendo qui non becco niente. Invece ho preso delle botte da tutto. Ah, le cose non stanno andando per il verso giusto. Allora. Siamo a ressare. E' apparso Fanfrit. Cosa farà? Allora. Ci sono delle... Le solite fontane di Fanfrit. Di nuovo una cosa come prima, ma... E' difficilissima da evitare questa. Cioè, è ovvio che mi becca. Perché c'è troppo poco spazio. Ora, in questo momento ero fortunato che c'ero solo io, ma... In condizione normale. E' apparso Velias. E' apparso Velias. Ah, fa il ciocco degli orologi. Va bene. Questa è facile. Ci sono anche le aree da evitare, però. Vabbè. Eh no, è morta anche della gente, ancora. Tra cui il nostro healer. Vabbè. Lo restiamo. E' arrivato un altro Esper. Quello delle colonne. Fa le colonne, appunto. Vediamo come le taglia. Una mi caderebbe in testa. Mi levo dalle scatole. E poi prova a ressare il Black Mage. E va bene. Fin qua c'è... Ma cavolo, sono morti altri due. Ah. Gran cross. Gran cross. Ah, è quella dei ghiaccioli. Vediamo. Forse se mi metto qua, evito tutto. Forse se mi metto qua, evito tutto. In teoria. Eh, ho capito bene. Ho evitato tutto. Bene. Il boss è il 56%. Mi sembra un po' veloce a scendere. Allora, qui la situazione è drammatica. Perché adesso saremo colpiti da quella cosa di prima. Ok, io me la son cavata, ma... Ovviamente l'altro healer è rimasto... Invischiato. Eh, no. Non è una... Uh, qua arriva... Il danno di prossimità. Chi ha quel danno deve allontanarsi. Cavolo. Però siamo sopravvissuti. Ok, è apparso di nuovo quello delle col... Ah, cavolo, ci sono tutti. E come cavolo faccio? Come faccio? Questa me la son presa nei denti. In più ho anche qualcosa sulla testa che mi farebbe volare. Ok. E in più c'è anche la fontana. Che mi insegue. Mamma mia, però. E allora? Io non rimango allibito. Io rimango allibito. Ok. Wipe. Ok, sta partendo una specie di ultimate. Ci sono i tre personaggi che noi abbiamo liberato dalla loro forma... Eh... Demoniaca. Poco fa. I primi tre boss, quindi. Eh... C'è Mustadio, Agrias e Orlandu. Che stanno facendo una barriera. Allora. Io metto tutte le cure possibili, immaginabili. Però... Stiamo prendendo danno. Stiamo prendendo danno continuato. Però... Mi sembra che stiamo reggendo bene. Mi preoccupo relativamente. Utilizzo anche qualche cooldown. Eh, però... C'è il 55, 50, 44. Sto continuando a curare. Beh, il mana ce l'ho. Però c'è un party che è particolarmente ferito. Ok. Qua le cose si stanno mettendo un pochino peggio. Comincio a non avere più mana. Spero che mi diano il tempo poi di ricaricare. Oh cavolo. Oh cavolo. Oh cavolo. Ho finito tutto. Ho finito tutto. Non siamo morti, però. Non siamo morti. Il che è incredibilmente positivo. Avrei potuto usare una fila di cura 3. In effetti sarebbe stato sicuramente meglio. Ma non mi aspettavo questa cosa così continuativa. È tutto cambiato. Ok. Il boss è cambiato forma. È diventato qualcosa di svolazzante con delle penne, piume, pinne. C'è un po' di tutto. Poco fa ho visto scendere delle aree che si sono spostate. Ho visto... Ecco, adesso per esempio c'è il vento. Il vento sposta le cose. E quindi io mi devo mettere in posizione da non subire danno. Anche tenendo presente il vento che può spostare alcune aree. E fin qua tutto bene. Fin qua tutto bene. Avremo anche la tripla. Ah, qua ci sono delle impronte. È morto il tank mentre ero distratto. Il tank l'ho ressato. Sto aspettando le mosse. Lo metto in focus target perché cambiando forma ho perso il focus target precedente. Qui c'è. Ha perso un add. Ma mi pare che miri uno specifico personaggio. Aree per terra come se piovesse. Ero convinto di averlo ressato il tank. Riproveremo. Ok, la situazione è sempre peggio. Mamma mia. Un sacco di colpi. Il boss è al 46%. Siamo tutti vivi, eh, bisogna ammettere. Dove è andato? È laggiù in fondo. Aree. Tutto buio. Non posso castare. Non posso castare. Segui gli altri. No, di qua è sbagliato. È una specie di labirinto. C'è anche un'area che ci sta inseguendo da dietro? Non ce la faccio sicuro. Non ce la faccio sicuro. Anche se sono uno dei pochi ancora full vita. Ok, ma posso castare. Ora posso castare. Vediamo di ressare il ressabile. C'è anche del danno di prossimità, ma il tizio si sta allontanando, quindi sta facendo la cosa giusta. Bella questa cosa. Molto bella. Mi piace un sacco. Oh, tutto è tornato normale. Via. Il boss è al 30%. Demi Virgo. Demi Virgo. Vediamo cosa succede se vado qua. Ne arrivano altre. Forse alla quarta si... Infatti, alla quarta si internò. La quinta. E mi blocca. E mi mette in parata su un demone che arriva. E lo reggo. Gran cross. Questo scende. Il vento è nell'altra direzione. Ok. Eh no. La situazione è pessima. Ho sbagliato completamente il posizionamento. Forse me la cavo ancora. Questo è una zona free. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Sono tentato, sono tentato, sono tentato di fare la limit break healer. Però vedo che si può ancora fare. Allora, vediamo un po'. Demi Virgo. In teoria ci sono le impronte per terra. Non le vedo. Ok, c'è questo. Il vento come spira. Non vedo il vento. Quindi non ci sarà. Il boss è morto. Il tank è morto. Andiamo a sopravvivere. Gli altri parti sono vivi, quindi... Sono speranzoso. Anche se mi portano le aree in testa, dannazione. No, morti tutti. 6%. Ok, c'è stato un wipe al 6%. Però ripartiamo da questa fase. Quindi posso anche permettermi di guardarlo meglio il boss. Wow. Sono ancora vivo. Ah, qua ci sono le impronte. 2 3 4 E qui apparirebbe la quinta. Ok. Il mio demonaccio l'ho sostenuto. Bisogna vedere gli altri. 1% tra l'altro. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ma ormai non ci stavo neanche più guardando alla vita del boss che finalmente ci lascia dopo direi almeno 4 tentativi senza considerare 2 raid che mi hanno portato a finire il tempo a disposizione. Quindi potete immaginare la frustrazione. benissimo stiamo vedendo le rovine del monastero e noi felici con i pochi compagni rimasti e possiamo andare a prenderci il loot. Allora siamo al drop ci sono le carte di ultima il minion di Ramza delle musiche non ho preso nulla e poi e poi e vabbè io tenterò il grid sul vestito da da lancer e passerò quello da healer vediamo cosa succede do una commendation e non ho preso nulla ovviamente ho fatto una man bassa di valori bassi probabilmente se vado a vedere il mio inventario posso rendere conto che è appunto l'ultima cosa che ho preso un pesce quindi non c'entra nulla bene a questo punto noi usciamo dal duty e vediamo che cosa ci riserva l'ultima parte della quest siamo nella piana dove abbiamo sconfitto ultima arriva Fran di Corsa insieme a Montblanc e troviamo Ramza che si riprende mi sembra che stia meglio si ci fa un cenno rassicurante ci ringrazia ok sembrerebbe tutto a posto tutti sorridenti c'è pieno di auraciti consumate sta guardando in una direzione oh 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 c'è il il vecchio Ramza il Ramza delle leggende che ci ringrazia nobile warrior of light in realtà la situazione era di questo tipo la scelta di non parlare di Ramza era anche per proteggerlo e nascondere la sua vera storia era anche a suo vantaggio ecco che appaiono tutti i personaggi di quella di quella leggenda i zodiac braves orlando mustadio e agrias non si vedono nel volto molto carina questa cosa il suo sacrificio è stato fondamentale però è giusto che rimanga nascosto per dare la possibilità ad elita di essere il vero leader ci sono altri personaggi tutti i zodiac braves ricordiamoci che in quel gioco si poteva utilizzare un sacco di personaggi c'è anche il robot che avevamo utilizzato ci sono un sacco di job particolari vedete che ci sono tutti i personaggi selezionabili non tutti in realtà perché c'era anche Cloud tra l'altro non ce l'hanno messo non ce l'hanno messo però c'era anche Valtier c'era anche Valtier però hanno voluto darci ancora la oh è apparso dell'ita hanno voluto darci la sensazione di un'armata composta da personaggi estremamente variegati c'è dell'ita che si sta scusando nei confronti di Ramza appaiono anche gli altri personaggi c'è Alma e direi che le cose si sono che bella questa immagine molto bella molto bella direi che le cose si sono risolte per il meglio abbiamo fatto un buon lavoro anche con questo ride questa trama conclusiva è risultata un pochino più chiara spero almeno di aver tradotto abbastanza bene quello che era il concetto di base di questa storia almeno nella parte finale cioè nella terza le prime due sinceramente mi avevano lasciato tanti dubbi però wow bello continuiamo con la missione parlando con Genomis siamo tornati sulla prima vista possiamo concludere la questione abbiamo di nuovo i figlioli tra le braccia del loro padre tutti contenti e felici oltretutto la ricerca del padre di sapere la verità è andata a buon fine ma io sono certo che lui preferirà a questo punto portare in questa rappresentazione teatrale che aveva intenzione di fare non la vera storia dei Zodiac Braves con tanto di sacrificio di Ramza come era sua intenzione inizialmente ma ha capito il perché è stata nascosta la vera storia di Ramza e quindi decide di riportare in realtà la storia di Delita come era stata narrata dalle leggende diciamo tra virgolette falsificate proprio per nascondere e proteggere ancora la memoria di Ramza seguendo quella che era la sua personale richiesta e desiderio sono tutti contenti e felici rimane un dubbio sulla resistenza di Dalmaska le immagini vanno su una prima vista in un momento notturno c'è la rappresentazione teatrale wow con pochi direi pochi no vabbè non ce l'è ci sono le le prove ok sono tutti vestiti a modino devono interpretare i vari personaggi c'è anche Ramza e noi abbiamo la possibilità di vedere quindi questa rappresentazione in anticipo sì abbiamo una rappresentazione personale per noi un po' troppo enfatici gli attori quando interpretano questo tipo di cose bella la musica sotto e mi pare che sia la musica che si sente al termine di Final Fantasy Tactics ho l'impressione che si tratti proprio dei titoli di coda io giocai il Tactics divorandolo cioè giocando tantissimo e portandolo al 100% in realtà non esattamente al 100% perché un oggetto alla fine l'ho persi ma se in un futuro porterò sul canale questo titolo potrò vantare nel mio salvataggio al 99.9% con un'infinità di ore di gioco e tutti i personaggi a palla questa musica finale mi commosse ricordo che ero assolutamente colpito dal valore artistico di quel gioco che proponeva bellissime scene animate perché comunque sì nel loro stile però avevano veramente un tratto unico sia per il gioco che era bello perché il gioco era bello per quanto la PSP in tutta sincerità avesse dei grossissimi problemi di lentezza ho provato anche a installare il gioco nella PSP per accelerare i tempi ma assolutamente sono stato ben lontano da poter giocare partite veloci c'erano dei rallentamenti allucinanti ogni volta che c'era un'animazione sinceramente spero in un porting controllerò tra i vari porting che hanno fatto su console su portatile per quando lo porterò sul canale avevo intenzione di portarlo immediatamente dopo aver finito Revenant Twins la mia speranza è quella il punto è il tempo a disposizione che potrebbe darmi qualche filo da torcere intanto su il Monte Gulg penso di aver letto bene ci sono un sacco di robottoni che sia la resistenza no sono degli studiosi sono degli studiosi imperiali c'è un gabrant no io ho detto imperiali perché ho visto le divise Noah tra l'altro Noah van gabrant bello il nome perché Noah è il nome di battesimo di gabrant sì sono degli imperiali fantastico c'è il collegamento quindi questo potrebbe essere un prossimo nemico addirittura del del nostro guerriero della luce questo chi potrebbe essere personaggio pislaco è un personaggio molto pislaco mi sembra che siano nel faro di ridorana stiamo parlando di un'arma veramente potente stanno cercando in questo luogo un'arma molto potente bene la missione sarebbe terminata mi manca un dialogo con l'ina qua c'è anche Fran e Guaggi io l'ina penso che sia immediatamente fuori dall'aerodromo di Kugane io esco e vado a cercarla così terminiamo una volta per tutte la lunghissima quest dedicata al ritorno su Ivalice attraverso questi tre lunghi ride da 24 giocatori sempre piuttosto difficili difficili sì ma anche molto affascinanti ecco l'ina parliamo con lei chiudiamo la missione ci manca ancora qualche ragguaglio sui sui ribelli ma probabilmente sapremo tutto nella patch 5.0 intanto chiudiamo la missione otteniamo un interessante coppia di musiche a questo punto io vi rimando ai prossimi video sulla patch 4.5 ce ne saranno ancora ce ne saranno ancora anche se i contenuti principali li abbiamo già sviluppati li abbiamo già visti abbiamo però ancora qualche curiosità al goldshauser e qualcosa ancora da sbloccare e poi fra qualche giorno almeno nel momento in cui io sto registrando ci sarà l'introduzione del blue mage che metterà altra carne sul fuoco quindi preparatevi a nuovi video su Final Fantasy 14 di novi canale Grazie a tutti.